Inizia con un incidente diplomatico la candidatura dell'area Atri-Cerrano, quale sito Unesco. Peccato perché l'idea è buona ed interessante, sviluppata da Ernesto Jezzi, presidente del Consiglio Comunale di Pineto. Ci sono tutti i presupposti, questa mattina abbiamo elencato quelli che sono i criteri richiesti dall'Unesco, che ne sono dieci, sei di alcuni naturalistici e quattro da un punto di vista culturali. Ci sarebbero i presupposti di proporre questo sito con un criterio misto, tra l'altro tra i siti riconosciuti a livello nazionale, che ne sono 44, si è di Unesco, nessuno è di criterio misto. Tutti sono d'accordo nel tutolare e promuovere l'esteso territorio collinare e costiero marino, compreso tra la riserva dei Calanchi e l'area marina protetta Torre del Cerrano. Storie nella città di Atri, arresti archeologici nel porto sommerso, ambiente, natura, dune, fondali marini, Parco Figliani, Pineta e centri storici di Silvi Paese e Mutignano. Gli ingredienti, la sostanza, ci sono per una programmazione delle linee di sviluppo di un territorio ricco di cultura e natura. Le amministrazioni, Silvi, Pineto Atri, provincia di Teramo, regione, sono in sintonia. Bisogna guardare la portata, bisogna considerare i pesi e le misure. Poi se si può camminare lungo questa strada è sicuramente un obiettivo immaginifico. Per l'obiettivo sito Unesco c'è un protocollo d'intesa di costituzione del Comitato Promotore. Dentro anche associazioni ambientaliste, soprintendenze e Università di Teramo. Cosa manca? La forma. Alla redazione del protocollo Atri non è stata coinvolta e nonostante il comprensorio di potenziale interesse per l'Unesco si chiami Atri Cerrano, la firma si dovrebbe apporre a Pineto. Occasioni solenni dove anche la forma conta, evidentemente. La sostanza nella giornata di seminari mattutina sabato 26 giugno è la tavola rotonda per chiarire a tutti il contenuto del possibile sito Unesco Atri Cerrano. Per le firme, la forma, se ne riparlerà in settembre, sempre che l'entusiasmo dei promotori non si raffreddi.